Dovrebbe fare Nicola Pirozzi un'operazione verità. A Giuliano scoppia il caso delle lettere anonime. Il primo a parlarne era stato Rosario Ragosta in un post su Facebook, poi Paolo Liccardo che in aula consigliare ha rivelato di essere stato dalle forze dell'ordine per disconoscere due lettere con la sua firma. Infine il sindaco Nicola Pirozzi in un lungo post ha parlato di macchina del fango nei suoi confronti. Una vicenda incresciosa su cui anche l'ex sindaco vuole vederci chiaro. Queste le parole di Poziello durante la nostra trasmissione Campania Oggi. Credo che durante la mia amministrazione di lettere anonime ne siano arrivate in quantità industriali, insomma molte riguardavano anche me, immagino che siano arrivate anche da altre parti. Nessuno si è indignato prima, nessuno si è indignato dopo, credo che è un costume tutto italico. Però mi ha fatto venire la curiosità e quindi vi preannuncio che tra qualche ora gli mando una richiesta di accesso agli atti per vedere che caspito sta arrivando al Comune perché sono curioso di sapere a danno di chi arrivano queste lettere, cosa dicono e via dicendo. E che fine fanno poi quando arrivano. Una situazione che per certi versi incuriosisce la cittadinanza ma per altri preoccupa. In molti in queste ore si chiedono quale sia il contenuto di queste lettere, le accuse o le minacce rivolte all'amministrazione Pirozzi. Io credo che fare una disquisizione sulle lettere anonime dia anche questo il senso del punto basso a cui siamo arrivati. Sono sempre arrivate, non ci siamo mai preoccupati più di tanto. Dovrebbe fare Nicola Pirozzi un'operazione verità e quindi, visto che se ne è parlato tanto, pigliassero queste lettere e le pubblicassero. Così chi ha titolo ad avviare azioni a propria tutela lo fa.